3D Amir Testa alta, dare bibbia a Torpini al mio pario La getta è rassegnata, ha dato fuoco al sipario Parlo per chi non si è lasciato mettere al tappeto Spera in giorni migliori se il futuro è chiede a un vetro Lo faccio in mille pezzi se è l'unica via d'uscita Per chi resta appesa da un filo e sfida la sua vita Yeah, radio inossidabile, volume 1 Tony Sky, Amir, 3D, Roma caccia, zio